In una piccola chiesa del Texas, nel mezzo del nulla più nulla americano, si è consumato domenica mattina un atto di quei periodici sacrifici umani che l'America compie sull'altare del culto delle armi da fuoco. Qualcuno è entrato in questa piccola chiesa battista a Sutherland Springs, a ovest di San Antonio, e ha cominciato a sparare. Era chiaramente molto meno armato prima che lui stesso morisse. È passato poco più di un mese da quel primo ottobre che vide a Las Vegas cadere 59 persone uccise a fucilate dalle finestre di un albergo. È passato poco dall'omicidio compiuto da un terrorista a Manhattan di otto ciclisti investiti con un furgone. Le due cose non hanno niente in comune se non che l'assassinio compiuto da quel terrorista e rivendicato dall'ISIS provoca immense reazioni, grida di vendetta, richieste di intervenire, mentre quello che è accaduto questa mattina nel Texas o poco più di un mese fa a Las Vegas passa senza che cambi assolutamente nulla. Questa storia, lo dicemmo già il primo ottobre per gli eventi di Las Vegas, questa storia è stata scritta, verrà riscritta ancora, ne scriveremo presto un'altra, c'era già stata una sparatoria minore qualche giorno fa. In questo scenario da film che ricorda le sequenze più granghignolesche, più sanguinose di Kill Bill quando avviene appunto una strage in una chiesa, tutto questo passa inosservato. C'è qualche grido, c'è qualche voglia di porre dei limiti, poi alla fine lobby delle armi e la stessa voglia degli americani di essere armati ferma tutto e tutto va avanti fino alla prossima strage. Si dice che essere armati può ridurre l'incidenza degli attentati, può far sentire la gente più sicura. Evidentemente in quella chiesina battista durante la funzione religiosa della domenica alla mattina non c'era nessuno armato o se c'era qualcuno armato, e in Texas ce ne sono molti, naturalmente non è potuto intervenire perché non si può sapere in anticipo che quella persona che entra nasconde magari sotto lo spolverino in una borsa un'arma da fuoco. Quindi aspettiamoci altre cerimonie come queste, altri orribili sacrifici umani compiuti sull'altare delle armi da fuoco.